Cosa? Carvana si sta evolvendo? Già ragazzi, ho trovato un Carvana E ora lo farò evolvere Finalmente in uno Sharpido perché Avevo proprio bisogno di un Pokémon Forte d'Acqua in squadra e Allora, eccocello qua Congratulazioni, Carvana si è voluto in Sharpido Mi ho segnato Surf, ho tolto l'Inun Finalmente perché non mi piaceva E godetevi la parte Bene, bene, bene Eccoci ritrovati in una nuova parte di Pokémon Rubino Omega Ci eravamo lasciati qua appunto Poco dopo aver parlato con Rocco eccetera eccetera E insomma ci avviamo in questo percorso 19 Ho una Pokéball Oh cazzo, è anche un allenatore Va bene, ci avviamo qui insomma Per Per vedere insomma Cosa c'è al di là di questa foresta Così possiamo chiamarla Bene, noi intanto abbiamo allenato un pochettino i Pokémon Noi io ho un pochettino i Pokémon E ho allenato un pochettino i Pokémon Che è a livello 39 euro Wow, con acrobazia Ma andiamo subito a K.O. Bootyfly E via così Andiamo, andiamo Ok Allora L'avevo preso in pieno Non riuscivo a muovermi Eh Vabbè Pokémon Del Casos Vediamo un Tropius magari No Un Gloom Se qualcuno interessa Qua ci sono dei Gloom E Tropius Vabbè Uccidiamo Già che ci siamo Ok Vai Bon Riprendiamo Qua un altro Meglio non intiappettarci Qua Ok Oh mio Dio Cazzo diverso era Drago Qui dentro potete curare i vostri Pokémon Se saranno indeboliti o feriti No Ehi 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 Puttanelli Ok Questo non ci farà un caso Saliamo di qua Per fare prima Avanti nell'erba E eccoci arrivati Finalmente Ebbene Entriamo subito No signorina Eccoci qua Vabbè Qua c'è Vabbè Iniziamo a battere Spudonatamente I rivali del team Rocket Del team Magma Scusate Buono Hanno un Mai pieno E noi ci buttiamo con Acrobazia Voilà Usa garanzia Non ci fa un tubero E noi usiamo Acrobazia Di nuovo Stavo per usare male lo sguardo Mi sarei rotto una testa Perché ne ho due Va bene E vabbè E vabbè E vabbè E vabbè Fagobomba Anche se tutti e due Siamo di tipo veleno Va bene Va bene così Tanto stavo provando Tanto stavo provando Stavo provando Che gioco che stavo provando Battlefield 4 Per PS4 Stavo provando Tanto c'è un po' di story History Vediamo com'è Speriamo bene Speriamo bene Per ora è bello Però Si sa mai Intanto c'è qualche bug La PS4 Aio 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 Che vabbè A colpa del coge Però non importa Ok Giù Destra Su Ok Eccoli qua Intrappolati Oh Ti ho dato lo schiaffo Porca puttana Sono allergico Agli stronzi Vai Assurdo Sì assurdo Dai Battiamo questi Intanto Cazzo no Ci mettiamo vite E vite Vai team magma Facci vedere Ciò che sai fare Noi sempre con Crobat Numel Numel Lo battiamo Con Acrobazia Via Via Vabbè semplice Ma Veloce Ma in piena Avrà la stessa sorte Via con Acrobazia Non credo che morirà Almeno Almeno un po' di danno Ce l'ha Vabbè Usi sempre questo Così almeno Acrobazzarlo a livello 40 E possiamo cambiarlo Buongiorno 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 No dai No dai Perché tanto Non ci frega niente Delle statistiche Cambiamo subito Mettiamo Niente Non possiamo cambiare E' morto Mi ero dimenticato Di curare il pokemon Ma sì Vabbè Non importa Lo alleneremo Più avanti Vai Vi manda Golbat Via Fango bomba Vabbè Tanto danno A quello che è Dito Acrobazia Vai Tanto che hai perso Resta di cazzo Bon Nacot qua Cicciotto Ancora Ragazzino Mi stai comunque Guarda Vabbè Ti darò un po' Di tregua Sciottandoti Tutti Il po' Sempre Con il commento Alciato Mi manco Gli inglesi Vai 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 Su Buttati con Acrobazia Merda Ci ha scottato Eh vabbè Capita Capita Forse adesso Farò un breve Taglio Forse Forse Perché Ci sono dei lavori In corso Qui vicino Mi disturbano Però Vediamo Magari poi non si sente Nel video Adesso Taglio Adesso Taglio Ehm Novo Scarica Cazzo Tutte le volte Camor Cazzo È di tipo terra Scusate Non mi ricordo Maio Perché c'è quel colorino Arancione Cazzo Non confonde Morso Usa Maledizione Un'aumentativa Statistiche Non è un drogista E io Ti attacco Più Lace Possibile Vai 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 Morsiamo Attacalo E mandiamolo K-O Dai Oggi c'è un casino Però volevo registrare Perché Se no Dopo un gioco Dovevo registrare Sciutto Logica Lacerazione No Mi piace Più Anzi Dai Ci sono ancora Una decine di minuti Più Ma sì Vabbè Sempre qua La storia Via Montepirla Da da Montepirla Grazie Ci hai salvato Bene Per ringraziarti Ti regaleremo Questo esperimento Fallito Dai Grazie Lo venderò Lo venderò Il primo nero Che passa E' pure femmina Ma vaffanculo Via Fare coiomberi Ora dai coiomberi Sono i coglioni Fare dai cordoni Vabbè Adesso partirà una nuova sigla Archeo rispeglio Archeo rispeglio Lo so Nuova sigla Vattene a Vattene a Faculo Benvenuti su una nuova rubrica Di Vattene Da 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 Dai Culis Dai Lala Hopla 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 Arrivati qua in tempo Un Dos Trass Dos Trass Dos Trass Dos Trass Dos Trass Boom Arriva Eva Vera Eva Cazzo Eva Vai Boom Venga cazzottone in faccia Non neanche poco Un furato Brutti stronzi Vai Una sfida per da vera Ma come Shroomish Sei scemo Vabbè Cazzito Vai Distruggiamo gli sui Shroomish Nel suo sogno Di arrivare alla rega Così Allora Sei esistente Ah già è vero Che quando lo colpisci Direttamente Ti fa addormentare C'è Giga Sorbi Mi sto cazzo Ai 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 Poveraccio Attacco rapido Continuiamo di attacco rapido Che Prima o poi si sveglia Gli tira una scazzottata in culo Vai vai tu assorbi Tu assorbi Che almeno il danno sarà Più figo Boh Ti è svegliato Adesso ti becchino Tu puoi calci in culo Per tutti i giorni che ho dormito Boh Uno te Uno il tuo compagno Che arriva adesso Ah ma Bravo Metti giù Metti giù ma Stomp Vai Si paziente Mentre io ti scaracati in culo Vai Uno Due Accumulo energia Ma Stomp Ma è di brutto Tocca a te Blaziken Fai capire che il fuoco Non ha paura dell'acqua Perfetto Benissimo Slum Prodiamo un cast form Così Tanto per provare cast form Sta piovendo Quindi in teoria Si dovrebbe trasformare E non so se Cari Palla clima credo Morto Però Non è così male Come pensavo Sapete Anzi è carino Lo potrei tenere nel box Grazie per volo Mi sarà molto molto utile adesso Vai vai Non dimenticarti Volo per tornare Dove cazzo Lo sappiamo Cosa serve Volo Lo sappiamo Cosa serve Maledetta Ragazzina Ci sono ninja Nascosti Quindi cerchiamo Di oltrepassarli Per sfidare Più avanti E la parte È finita Anche questa parte È finita Siamo finalmente Arrivati Fino a qua Stanno scorrendo Abbastanza veloci Senza gli allenatori Di mezzo Quindi Presto Arriveremo Anche alle Ultime palestre Che ne mancano Una quest Due ne mancano Vabbè Due No Due Boh Vabbè Magari riusciamo A fare una Cosina veloce 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 Dopo depositiamo Casform Che ha un oggetto Ce lo freghiamo Però che figo Guardate Si muovono i legnetti Spettacolo Giù Ecco Parliamo con Rocco Già parliamo Sentiamo cosa dice Rocco Percorso 120 Ok C'è qualcosa Nel percorso 120 Noi Andiamo di qua Dai Vediamo dove si va Guarda la palestra Che figa Ma dai Secondo me In bici No Spettacolo Vabbè Scendiamo Ok Andiamo di qua Qua dovrebbe esserci Un allenatore Battiamola Intanto che Aspettiamo la fine Del Della cosa Della Parte Appunto Allora Butta in campo Golding Qua Questa è una palestra Di tipo Volante Se non mi sbaglio Deve essere di tipo volante Ma noi abbiamo Manetric Che è di tipo elettrico Quindi non faremo neanche fatica Per battere Dato sgaranossiamoci un pesciolino Per colazione Voilà Voilà Bon Poi Seeking 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 Usa cascata Usa cascata Già cascata Già cascata E via Ciao Ciao Seeking Ok Ok Buongiorno Siamo arrivati a 20 minuti Dopo nella prossima parte Scopriremo I pokemon Invisibili Così possiamo chiamarli Ehm Sto casino Ehm Non riesco neanche a parlare Voi probabilmente Non sentirete niente Perché la videocamera è imboscata Comunque Ehm Grazie per aver visto questo video Di nuovo Ehm Ci vediamo in una nuova parte Sempre Un po' come Rubin Omega Ehm Quindi continuate a seguirci Ehm Ci vediamo sul canale Degli M&M Games Un saluto da MK To be Continued Ehm